l'avete capito già dal titolo mi trovo all'interno della nuova hyundai bayonne che stiamo provando per voi in questi giorni quando però questo video qui sarà già uscito qui in alto nelle schede sarà già disponibile il nostro test drive completo come promesso e come di consueto sul nostro canale e se non lo sapete iscrivetevi cliccate sul campanello e commentate qui sotto su quali auto vorreste che provassimo e su cui vorreste che noi ci focalizzassimo a quello tecnologico appunto su questa hyundai bayonne è arrivato il momento di scoprire la sua tecnologia tecnologia di bordo quindi comfort ma anche sicurezza di guida bando alle ciance scopriamolo subito prima di farvi vedere come funziona l'infotainment di questa hyundai bayonne voglio farvi vedere il suo layout infatti abbiamo uno schermo touch opaco quando è spento con una cornice invece lucida da spolverare continuamente ve lo dico già con una diagonale da 10,25 pollici nella home page anzi con il blocco schermo senza password ovviamente troviamo dove ci troviamo con la navigazione questo sfondo con le onde la temperatura esterna è il meteo che attualmente qui a milano è nuvoloso data e ora e media spenti sotto l'unico pulsante fisico è il rotore con un bel grip per alzare abbassare il volume e per metterlo in muto e poi dei pulsanti touch quindi per arrivare sulla mappa per andare alla finestra di navigazione i preferiti per andare avanti indietro con le funzionalità della radio per andare direttamente alla radio oppure agli altri tipi di media e alle impostazioni dirette della vettura ma appunto focalizziamoci su questo infotainment clicchiamo ho cliccato su media quindi qui possiamo alzare abbassare il volume come vi ho detto attualmente siamo sulla radio dub per esempio se io premo sulla radio appunto ci manda direttamente come detto ma col logino della home page abbiamo appunto il ritorno alla home page stessa dove come prima finestra abbiamo anzi come prima pagina abbiamo la home page che vi ho detto la seconda pagina giusto iniziano a mettere le mie impronte ma va bene abbiamo tutte quante le funzionalità dirette e anche una terza pagina con ulteriori due funzionalità qui in alto abbiamo la selezione dei profili conducente 1 cambia utente attualmente con esso il conducente 1 ce ne sono altri possiamo cambiare il nome mettere una password se vogliamo avere un'immagine nel profilo collega account bluelink oppure elimina il profilo oltre a questo cambio utente possiamo andare a scegliere gli altri per esempio driver 2 guest che sarebbe l'ospite confermiamo il driver 1 conferma infatti il 2 come avete visto era in inglese si possono cambiare anche queste funzionalità oltre a questo su c'è il pulsante della home page molto android se vogliamo come se vogliamo design ecco interfaccia schermo off mostre con le principali e manuale su queste tre puntini su queste tre righe diciamo poi abbiamo orario e data al centro qui abbiamo un non è un pulsante ma una icona che ci mostra la connessione attualmente della vettura ma saltiamo subito a scoprire quelle che sono le varie funzionalità di questo sistema infotainment andiamo sulla mappa per esempio non abbiamo un feedback aptico ma possiamo attivare un feedback sonoro abbiamo la funzionalità di trascinamento e anche il pinch to zoom vedete la mappa tra l'altro è connessa in live quindi una navigazione connessa in quanto abbiamo il traffico attuale oltre ai simboli di lavoro in corso per esempio hyundai qui abbiamo ma possiamo tornare alla home anzi torniamo sulla mappa qui è dove ci troviamo abbiamo vari pulsanti il pulsante home l'orientamento quindi abbiamo una visuale a volo d'uccello una visuale zenitale con il nord fissato in alto o una visuale con la direzione della vettura fissata oltre a questo così possiamo attivare con questo pulsante sulla colonna di sinistra le indicazioni vocali o per esempio anche il suono effetto di guida e la navigazione prioritaria ma torniamo indietro possiamo avere lo zoom anche col più e con il meno oppure lo zoom automatico attualmente a 50 metri qui abbiamo un menu a tendina scomparsa che ci mostra cosa la radio perché magari noi vogliamo cambiare stazione o canzone se abbiamo il telefono collegato via bluetooth senza uscire però dalla navigazione vogliamo sempre tenerla sott'occhio oltre a questo torniamo ecco con quel pulsante dove eravamo chiudiamo questo menu a tendina così abbiamo la navigazione completa in questo formato widescreen andiamo al menu percorso qualora fosse attivo un percorso le informazioni della circolazione con i punti di interesse con le categorie dei punti di interesse vedete un po sono tantissimi o ancora informazioni sul traffico attive o meno vedete come cambia adesso è verde perché il traffico in questa zona è scorrevole possiamo salvare e possiamo spegnere lo schermo con questa lente di ingranimento invece andiamo direttamente a digitare quella che può essere una nostra indicazione verso un luogo una location insomma torniamo indietro attualmente ci troviamo a milano in italia premiamo però su nav che è appunto la navigazione vera e propria perché quella era la mappa che sono due cose diverse abbiamo le shortcut per raggiungere diciamo delle scorciatoie in italiano per raggiungere casa ufficio o preferiti qualora volessimo salvarli in cerca abbiamo la stessa visuale quindi che avevamo prima una tastiera un tastierino alfanumerico anche con delle impostazioni per il layout della tastiera ma quelle poi ci arriveremo alla fine del video la categoria di punti di interesse l'abbiamo già scoperta le destinazioni precedenti o quelle preferite o le ricerche le posizioni salvate l'assistenza Hyundai e anche Hyundai Live oltre a questo se abbiamo attualmente un percorso di navigazione possiamo annullare il percorso avere una panoramica la pianificazione di un itinerario e anche le opzioni del percorso il telefono allora il telefono ora non è connesso infatti adesso premiamo su annulla perché domani iscrivetevi adesso al canale e cliccate sul campanello per ricevere le notifiche perché appunto domani uscirà un tutorial diretto su come collegare il proprio telefono via bluetooth stessa cosa qui c'è proiezione telefono infatti col cavo usb potremo avere accesso al mirroring del nostro smartphone attraverso sistemi quali Android Auto ed Apple CarPlay memo vocale abbiamo dei pro memoria vocali sono memorizzati finché non vengono eliminati e per eliminare bisogna premere menu con questo pulsante possiamo registrare e anche stoppare la registrazione attualmente non c'è nessun file di registrazione disponibile il clima il clima ci dà più che altro un mirroring perché non lo possiamo controllare ma ci dice semplicemente cos'è attivo innanzitutto esterno temperatura esterna 12 gradi se io premo su auto mi è acceso il clima automatico infatti è scomparso il pulsante off se tolgo l'aria condizionata mi si spegne l'aria attivo e poi qui vedete cambia la temperatura in base a quanto la sto andando a controllare sulla sinistra qui sotto sotto lo schermo ci sono le venture controllo ventole ma noi adesso lo spegniamo possiamo attivare o disattivare le impostazioni della climatizzazione quindi quelle relative all'attivazione all'uso del liquido tergivetro la deumidificazione automatica e l'anti appannamento automatico quindi veramente dei sistemi molto intelligenti e soprattutto utili diretti a quelle che sono le esigenze concrete di vita quotidiana di una vettura abbiamo la modalità parcheggiatore che attivandola nell'app Blue Link ci permette di avere delle funzionalità di privacy quindi mettere magari una password dallo schermo dell'infotainment magari siamo al ristorante siamo in un hotel e diamo le chiavi ad una persona che non conosciamo che può essere un parcheggiatore può essere un amico a cui chiediamo di parcheggiarla ma se non dovessimo fidarci di questa persona non potrà controllare quelle che saranno le nostre telefonate la nostra rubrica con i numeri di telefono o anche le destinazioni tipo casa nostra o il nostro luogo di lavoro radio qui c'è la radio che può essere DAB o FM o AM quindi in automatico con questo alziamo e abbassiamo il volume come detto l'impianto audio Bose è molto buono e qui abbiamo innanzitutto i preferiti con queste freccette possiamo andare avanti e indietro con questa stellina metterla nei preferiti mettere la stazione su cui siamo attualmente sintonizzati tra i preferiti ora siamo su DJ 30 songs possiamo andare avanti e indietro anche con questi pulsanti touch e avere accesso alla lista delle stazioni abbiamo il nome il genere e anche la stellina per aggiungerlo tra i preferiti possiamo mettere per stazione o anche per tipo di programma come filtro di ricerca multimediali abbiamo le varie tipologie ci possiamo collegare alla radio DAB o FM alla radio AM al bluetooth però ve lo farò sapere domani musica USB o video USB addirittura quindi tramite una chiavetta USB suoni della natura questa cosa qui questa funzionalità l'abbiamo scoperta anche in un'altra vettura del gruppo Hyundai stiamo parlando della Kia EV6 qualche mese fa link qui in alto nelle schede infatti abbiamo dei suoni per rilassarci infatti pensavo quasi quasi di uscire oggi pomeriggio con la macchina parcheggiare in un parco vicino come quello in cui sono adesso e mettermi a leggere se però fuori non dovesse piovere e oggi purtroppo mi sa che è prevista pioggia ma comunque potrei scegliere dei suoni tipo foresta vivace onde del mare calmo giornata di pioggia ecco se non dovesse piovere avremo giornata di pioggia caffè all'aperto mi sembra di stare in una boulevard parigina ho caminetto acceso quindi se non ho il caminetto a casa mia posso mettermi in macchina leggere un bel libro davanti ad un caminetto virtuale vediamo un po' la lista abbiamo anche paese innevato con i passi nella neve uno dei suoni più rilassanti del mondo stoppiamolo e usciamo in multimediali c'era quindi questo oltre a suoni della natura ma non solo perché abbiamo anche accesso ad altri sistemi multimediali come ad esempio Android Auto, Apple CarPlay Blue Link è la app della vettura quindi con il calendario o anche il meteo, lo sport, la diagnostica del veicolo verifichiamo in questo momento abbiamo tutto quanto normale quindi tutto bene ma anche le impostazioni di Blue Link per attivare il servizio per avere le informazioni del modem per avere un codice riverifica e per una guida all'attivazione del Blue Link oltre alla modalità offline, le condizioni di uso e l'informativa della privacy qui c'è in basso la disattivazione e qui in alto abbiamo attualmente Blue Link quindi è attivato in effetti in questo momento Hyundai Live possiamo avere le informazioni sul traffico i parcheggi in live le stazioni di servizio in live quindi con le informazioni vicino alla posizione corrente o vicino alla destinazione o al cursore ci dice anche quanto costa la benzina perché quest'auto è un'auto a benzina e quindi l'auto è connessa e ci mostra queste tante informazioni connesse proprio in live notifica nessuna notifica attualmente visualizzata solitamente sono quelle del sistema di navigazione impostazioni impostazioni sono veramente tante impostazioni del veicolo abbiamo gli ADAS quindi comfort di guida sicurezza anteriore con la frenata automatica di emergenza driver attention warning quindi l'alerta della tensione del conducente sicurezza di parcheggio con sensore retrocamera sicurezza di punti ciechi quindi con il sensore dell'angolo cieco con una spia sugli specchietti riconoscimento della segnaletica stradale con il limite di velocità e la sicurezza in corsia con il mantenimento attivo a proposito di retrocamera mettiamo in R il reverse così vi faccio vedere com'è la retrocamera qui abbiamo i sensori di parcheggio anteriore e posteriori peccato che questa sia una Hyundai i20 e non una Bayonne ma va bene così abbiamo le griglie dinamiche colorate in base a come giro il volante possiamo avere una visuale fisheye o una visuale diretta se magari abbiamo un paletto o un marciapiede vicinissimo e quindi possiamo cambiare proprio il visuale della retrocamera abbiamo anche però delle impostazioni con la selezione dei contenuti e anche le impostazioni del display possiamo regolare quasi come su una macchina fotografica digitale luminosità luminosità di notte e il contrasto o tornare alle impostazioni preferite rimettiamo in Park andiamo a Cruscotto abbiamo la luminosità del display davanti ai miei occhi le impostazioni della telecamera le abbiamo già viste il filtro luce blu per non stancare gli occhi con automatica o temporizzata la regolazione del colore il rapporto dello schermo l'uso esteso della telecamera posteriore quindi si attiva anche la retromarcia è disattivata al superamento però di una velocità pre-refinita viene disattivata magari per non distrarre il conducente infotainment on e off l'infotainment restativo quando il veicolo viene spento bella questa impostazione molto utile il clima abbiamo il ricircolo dell'aria la ventilazione automatica con la deumidificazione automatica le opzioni di anti-appanamento e sbirinamento ma le abbiamo già viste prima luci luminosità della luce ambiente ce l'abbiamo 4 si può andare da 0 a 4 la freccia one touch ci dà 3 lampeggi senza effettivamente andare a selezionare ad andare in basso o in alto per la freccia funzione di benvenuto dei specchietti che si aprono e si chiudono quando ci avviciniamo o sblocchiamo le porte abbiamo il ritardo spegnimento fari e l'assistente degli abbaglianti disattivazione automatica per gli abbaglianti per non accecare i veicoli in avvicinamento anzi i conducenti dei veicoli in avvicinamento tra l'altro premuto per sbaglio sulla lente di ingranimento ma possiamo cercare delle impostazioni digitando proprio delle parole chiave molto utile sportello abbiamo il blocco automatico in velocità e lo sblocco automatico a veicolo spento comfort l'allarme del passeggero posteriore che ci avvisa se stiamo dimenticando qualcuno può succedere purtroppo sui sedili posteriori il sistema di carica wireless attivato e devo dire che funziona anche molto bene ultimamente abbiamo provato diversi auto su cui evitavamo di usarlo perché non funzionava bene forse la piattaforma non era abbastanza aderente con molto grip e quindi il telefono scivolava e si disconnetteva su quest'auto funziona veramente bene infatti ieri vi do questo aneddoto stavo tornando a casa dopo aver preso l'auto da Giuseppe e avevo il telefono scarico lui non poteva prestarmi il suo cavo e quindi ho messo il telefono con la piattaforma ho usato la navigazione della vettura per tornare a casa invece di quella di Apple CarPlay e sono tornato a casa veramente in maniera facile perché tra l'altro l'auto era connessa mi dava l'opzione di percorso più rapida e veloce quindi in quel momento lì Google Maps proprio non mi è servito non mi è servito neanche il cavo di ricarica del mio iPhone perché il telefono era lì sotto carica e in quei 20 minuti di guida ho caricato il mio telefono dal 30 al 55% quindi sono arrivato a casa veramente tranquillo e senza paranoie ma andiamo avanti queste erano le impostazioni del veicolo andiamo sulle impostazioni della navigazione la velocità del veicolo visualizzata le informazioni sul traffico il colore per problemi di traffico sul percorso quindi verde, giallo, rosso esattamente come su Google Maps guida abbiamo le indicazioni dettagliate come vedete imposta tipo di distanza di guida per un intervallo cumulativa indicazioni vocali della navigazione le abbiamo spente perché io le trovo un po' fastidiosi su qualsiasi vettura e anche su Google Maps ma sarò strano io informazioni alla frontiera impostazioni delle destinazioni precedenti per salvarle per mostrarle o per avere dei suggerimenti gli avvisi avviso degli autovelox molto utile mappa abbiamo la modalità della mappa in 3D con gli edifici e con lo zoom automatico il colore della mappa che può essere latte caffè latte mocha o nero veramente bello noi lo lasciamo su latte impostazioni dello zoom automatico come vedete in base alla velocità c'è la scala dello zoom automatico veramente precisi questi produttori anzi questi programmatori dell'infotainment di questa Bayon funzioni automatiche abbiamo il ritorno automatico dopo lo scorrimento torno alla mappa dati personali e satellite mi rendo conto che forse col cielo nuvoloso di oggi la mappa non ve l'ho fatta vedere per bene quindi torniamo sulla mappa stessa vi metto un colore un po' più scuro e ve la faccio vedere perché forse la visuale era un pochino sovraesposta non si sa mai o comunque ve la faccio vedere con questa diversa colorazione ed era questa torniamo sul setup navigazione rimettiamo la mappa in modalità anzi in colorazione più chiara come ce l'avevo prima le funzioni automatiche le abbiamo viste torniamo indietro suono impostazioni del suono audio premium con la compensazione dell'audio in base alla velocità la limitazione del volume all'avvio del sistema posizione quindi abbiamo il bilanciamento all'interno dell'abitacolo l'equalizzatore con alti, medi e bassi o per accentrare il tutto indicazioni di guida spente, accese con anche il volume di guida il controllo del fruscio dell'area di FM con una leggera cancellazione o una forte riduzione con una scarsa ricezione assistenza conducente priorità sicurezza di guida retromarcia prioritaria quindi con il volume che si abbassa ma io in realtà lo voglio disattivare perché ci sono dei parcheggi molto larghi dove non ho tanto bisogno di concentrarmi e voglio ascoltare la mia musica e qui c'è il volume dell'impostazione dell'audio dispositivo connesso anche qui Android Auto Apple CarPlay vediamo Apple CarPlay abbiamo i volumi predefiniti connessione dispositivo abbiamo le impostazioni ma non le vedremo adesso ma nel video di domani iscrivetevi al canale profilo conducente 1 conducente 2 l'abbiamo già visto riconoscimento vocale attivare e disattivare riconoscimento vocale qui ci sono tutte tutte le informazioni e comandi vocali possiamo ridurli tema o layout salva schermo con un orologio analogico digitale o con niente split screen come vedete tema del quadro il quadro strumenti praticamente lo possiamo collegare attualmente alla modalità di guida display abbiamo la luminosità del display le impostazioni della telecamera il filtro luce blu insomma tutte cose che abbiamo visto prima pulsante abbiamo un tasto personalizzato quindi questo non era un pulsante per i preferiti della radio quanto per avere una shortcut su tutte queste altre funzionalità pulsante mode del volante idem ci fa vedere la proiezione del telefono video usb magari togliamolo mettiamo audio bluetooth e dub fm la manopola del volume che ci fa volume alimentazione oppure cerca nei media zoom mappa blu link l'abbiamo visto prima è generale c'è una impostazione in generale con le informazioni e l'aggiornamento del software le informazioni di sistema con la memoria il manuale le informazioni del modem data e ora ora secondo il gps oppure manuale con il formato 24 o 12 ore e anche l'ora legale lingua ci sono tutte le lingue ma la lasciamo in italiano per non perderci la tastiera che può essere layout di tastiera latina qwerty querts azerti e abcd quindi in ordine alfabetico il layout della tastiera cirillica coreana perché è una hyundai pur sempre e la tastiera predefinita con l'alfabeto latino unità di misura distanza e velocità in km o miglia temperature in gradi Celsius o Fahrenheit consumo di carburante in km litro o litri per 100 km e basta impostazioni media abbiamo la radio e media off all'avvio del veicolo e la notifica al cambiamento del titolo di alcuni media infine le impostazioni predefinite che verranno ripristinate coloro lo volessimo ultima pagina ultima finestra il manuale scansioniamo il QR code e andiamo direttamente sul manuale online della vettura ma questo era l'infotainment con questo suo 10,25 pollici touch senza feedback ma con il beep attivabile adesso scopriamo ciò che c'è davanti ai miei occhi qui infatti sul volante abbiamo diversi pulsanti sulla sinistra dedicati al controllo vocale alle modalità quindi radio oppure media collegati il pulsante per il volume e il pulsante per andare avanti indietro con le tracce o con le stazioni radio alzare la cornetta chiudere una telefonata sulla destra invece le varie finestre di visualizzazione delle informazioni del trip il cruise con l'imitatore andare su e giù tra le varie finestre delle informazioni del trip più o meno o mettere in pausa il cruise control il mantenimento di corsia e la distanza dal veicolo che ci precede per il cruise control adattivo vediamo un po' utilizzando questi pulsanti cosa cambia anzi innanzitutto questo è il display nel display abbiamo sulla sinistra il tachimetro sulla destra i contagiri al centro le informazioni del trip e in basso il consumo istantaneo la spia del freno a mano la modalità di guida eco e anche i chilometri rimanenti di autonomia con questo pulsante alziamo e abbassiamo il volume su e giù avete visto ci ha messo i suoni della natura perché non siamo collegati a niente anzi con il mode andiamo a cambiare mettiamo la radio dabb alziamo e abbassiamo il volume cambiamo stazione radio come vedete mentre qui se premiamo su questo pulsante ci cambia la visualizzazione la bussola le impostazioni di guida vediamo un po' quali sono ci rimanda direttamente qui con una singola pressione poi oltre a questo le informazioni del trip e di nuovo la bussola ma andiamo all'inizio vediamo un po' se scendendo cambia qualcosa abbiamo innanzitutto il mantenimento di corsia e la distanza dal veicolo che ci precede poi in basso il livello di attenzione il limite di velocità e di nuovo questo andiamo invece alla seconda finestra le informazioni cumulative del trip con consumi distanza e ora ore di guida l'autostop i flussi di energia perché è pur sempre un'auto mild hybrid la velocità attuale le informazioni di guida i dati dall'ultimo rifornimento e di nuovo le informazioni cumulative infine sulla bussola abbiamo praticamente solo la bussola questa era la tecnologia di bordo davvero completa di questa Hyundai Bayon ora vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale e di cliccare sul campanello per ricevere le notifiche e farci sapere nei commenti o con un bel pollice in su o con entrambi perché per voi è gratis ma per noi è molto importante appunto fateci sapere se avete domande curiosità o suggerimenti e inoltre come fare per restare aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti oltre ad iscrivervi al canale vi basterà seguirci su tutte le piattaforme social che vi possano venire in mente siamo dovunque e abbiamo anche un sito internet il nostro nome dovunque wedrive.tv grazie a tutti grazie a tutti